La Backcamp fa riconti con l'ambiente, siamo con Gianni Cecchinato di Ecoarea, media partner della manifestazione. Gianni, questa mattina sentivo discussioni anche concitate, che cosa è uscito fuori da questo evento di oggi? Diciamo che questa mattina non solo devo ringraziarvi per avermi dato questa opportunità di accrescere conoscenze, rapporti e conoscere nuove esperienze di altre persone. Quello che mi è piaciuto molto è che il dialogo si è infiammato, se si può usare questo termine, si è scaldato un po' perché abbiamo cominciato a mettere sul piatto tutti insieme quelle che erano le nostre esperienze in rapporto al tema della giornata. Quindi le mafie, la mafia e la sostenibilità con la mafia. Gioco di parole che alla fine scopriamo che dobbiamo sopportare la mafia però non abbiamo la sostenibilità per sopportarla. Quindi alla fine oggi ci troviamo che usciremo da qui questa sera o questo pomeriggio molto più ricchi e molto più entusiasti nell'affrontare gli argomenti da giornalisti, visto che siamo tutti giornalisti o comunque direttori di testate ad affrontare l'argomento con uno spirito diverso. Quello di non aver più paura di far rete nel comunicarci informazioni e suggerimenti ed esperienze ma aver il coraggio di uscire facendo rete quasi come se il concetto all'omertà al contrario potesse darci la forza per indagare, valutare e comunicare perché il problema che è uscito oggi questa mattina è stato quello del comunicare per informare. Il problema è che anche noi dei mezzi di informazione abbiamo delle remore nel comunicare e nell'informare e non siamo talvolta né esaustivi né convincenti perché abbiamo paura di pestare i piedi a qualcuno piuttosto che andare contro certi sistemi. E poi io mi ho chiesto, dobbiamo fare un'indagine quando parliamo di malavita piuttosto che di situazioni anomale per l'ambiente in chiave di reportage d'assalto o reportage informativo all'acqua santa, cioè di buono che deve fare del buonismo a tutti i costi per informare, però alla fine non si informa se non portiamo quello che succede denunciando le situazioni indipendentemente da come, cosa e chi le ha provocate. Questa mattina ho visto per esempio quando ho citato l'esempio del risparmio dell'acqua. Quando ci roviamo i denti teniamo lo rubinetto aperto o lo teniamo chiuso? Ecco, ha colpito tutti addetti ai lavori sul risparmio per esempio e sulla sostenibilità e l'utilizzo dell'acqua. Ma ho detto una cosa banale alla fine, non ho detto un qualcosa di trascendentale, ho portato un esempio della nostra quotidianità. Quindi se dobbiamo fare qualcosa lo possiamo fare facendo dei piccoli passi ognuno di noi. I piccoli passi stanno anche nell'aprire e chiudere il rubinetto quando non ci serve l'acqua. Il parcheggiare in un determinato modo per aiutare gli altri, ridurre l'utilizzo o il consumo di determinati beni o servizi in maniera che la comunità lo possa beneficiare meglio e non essere troppo egoiste. Senti, parliamo invece di ExpoArea. Oh ecco, questa è una bellissima domanda perché ExpoArea alla fine aprirà i battenti, dopo essere stata come progetto gestita dal 2005, arriva finalmente ad aprire i battenti. Che cos'è ExpoArea? È un centro polifunzionale fatto da EcoArea che è una società nella green economy, quindi una società di servizi aperto per poter fare del business, ma anche dare la dimostrazione all'imprenditoria, alle amministrazioni pubbliche, ai semplici cittadini che si può fare business attraverso l'etica, attraverso la sostenibilità e non finalizzato solo all'investo per ricavare il massimo. È un'idea di Romano Ugolini che oggi purtroppo non è potuto venire perché come dicevo prima apriamo il 15, di conseguenza sono giorni di alta fibrillazione, di alti contatti, di altre molte cose che alla fine l'agenda cambia di ora in ora, non di giorno in giorno. Ecco che alla fine EcoArea è un centro polifunzionale realizzato in bioarchitettura con materiali sostenibili, utilizzando dal cemento biotrass, quindi cemento naturale, per arrivare al legno lamellare. Quindi tutti i materiali oggi sul mercato disponibili per contenere i consumi, ridurre l'incidenza, quindi cerchiamo di utilizzare che è prodotto a chilometro zero, fornito in zona. Come anche i progettisti erano a chilometro zero perché sono stati trovati, selezionati in altre parole, localmente dalle Marche alla Romagna. Quindi tutto è stato portato avanti in un concetto forse esasperato ma poteva essere anche di esempio e anche di riferimento per le amministrazioni. Vedi il Comune di Coriano che dopo due anni di incontri e scontri sulla possibilità di costruire un edificio in questo modo, che ha dato poi il benestare, fosse didattico. Difatti oggi stiamo realizzando anche la libreria di materiali impiegati. Il visitatore entra e può toccare con mano quelli che sono stati materiali impiegati. Inutile sentire parlare che è stato usato il mattone o il calcestruzzo il biotrasse, oppure che è stato usato il materassino di lana di legno. Ma com'è fatto un materassino di lana di legno? Ecco c'è un campione che si può toccare. Poi con i 2500 metri quadri espositivi potremo dare lo spazio alle aziende per esporre i propri prodotti, come anche organizzare, vista la sala convegni da 150 posti, poter tenere seminari e convegni legati alla sostenibilità e al nuovo modo per una qualità migliore della vita. Grazie Aquaria. Grazie a voi della disponibilità e della giornata perché è veramente meritata. Complimenti anche per il lavoro. Grazie. Grazie.